Mi preferisce Giovanotti o Fedez? Si, io musicalmente preferisco Giovanotti mio figlio è andato al concerto di Fedez però purtroppo è un problema che ho in famiglia come apertura mentale mi confronto volentieri con Giovanotti che la pensa diversamente da me Fedez mi sembra un talebano Si metteranno d'accordo, canta che ti passa sono un problema loro